Con Paolo Fox scopriamo cosa ci dicono le stelle del Capricorno per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute del mese di marzo 2019 Secondo l'oroscopo di Paolo Fox, in amore possono esserci dei piccoli problemi da affrontare ma molte coppie sono più serene e forti dopo alcuni problemi Nel lavoro la situazione tende a migliorare e si aprono nuove strade, è un mese interessante per i nuovi contatti La salute, nonostante un calo della forma, è favorita da Marte e Saturno in aspetto positivo ma attenzione alla schiena in questo periodo Punto oroscopo marzo 2019 Capricorno, cosa succederà ai nati sotto questo segno in amore, lavoro e salute secondo le previsioni di Paolo Fox Amore le coppie che hanno vissuto dei momenti difficili nel corso del mese di febbraio, superandoli, sono molto più forti e serene I nati sotto il segno del capricorno possono godere della presenza di Mercurio nel segno Questo pianeta favorisce i nuovi contatti Paolo Fox ci fa sapere però che ci saranno comunque dei piccoli problemi da affrontare C'è chi è spesso impegnato nel lavoro dedicando poco tempo alla relazione Chi convive potrebbe sentire un blocco psicologico Bisogna stare particolarmente attenti nei weekend tra le 8 e il 10 e tra il 22 e il 24 marzo 2019 Chi ha in mente dei progetti come la convivenza o il matrimonio, può contare sull'inizio di un periodo positivo che avrà il suo culmine a metà anno Lavoro dal punto di vista lavorativo Il capricorno vive un mese interessante per i contatti e per il lavoro Marte è in transito positivo, e anche Saturno e Urano sono in aspetto piacevole Dunque si può recuperare un po' a seguito dei problemi vissuti nel 2018 Si possono cercare dunque nuove strade da percorrere senza tornare indietro Chi lavora autonomamente può avanzare qualche richiesta nel corso del mese di marzo 2019 A partire dal prossimo mese, secondo l'oroscopo di Paolo Fox, le cose vanno bene per chi ha in mente nuovi progetti Salute intorno al 22 di marzo 2019 I nati sotto il segno del capricorno possono vivere un lieve calo della forma Marte e Saturno favoriscono comunque le cure, dato il loro aspetto positivo Secondo Paolo Fox è il momento giusto anche per chi vuole mettersi in forma e fare una dieta Il punto debole del capricorno è però la schiena e dunque bisogna prestare un po' di attenzione in più Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like Grazie a tutti